Predisposti i lavori di sistemazione della strada Andrea Guglielmini sul lungomare di Santa Maria di Castellabate, l'amministrazione ha approvato la delibera di giunta per migliorare e rendere sicura una delle principali arterie del centro. La strada che dal corso Matarazzo scende verso il lungomare di Simone è provvista della stessa pavimentazione di Petra Calcarea presente nel resto delle zone pedonali del centro, posa che verrà completamente ripristinata uniformandola con la stessa tipologia di materiali. La strada del lungomare Guglielmini la scorsa primavera è stata oggetto di interventi per la realizzazione dei sottoservizi per l'efficientamento energetico eseguiti da e-distribuzione. L'amministrazione ha sottoscritto un'intesa che dava responsabilità alla società di ripristinare circa la metà della superficie interessata. La scelta dell'avvio dei lavori si rende necessaria per poter completare, intervenendo con risorse comunali, una parte del ripristino già avviato, ottenendo, grazie alla combinazione di due cantieri, il contenimento dei costi. L'assessore ai lavori pubblici, Costabile Nicoletti, dichiara in merito all'inizio dell'intervento. A conclusione dell'accordo di programma e della delibera approvata in giunta ci apprestiamo, in vista del periodo di maggiore afflusso turistico, a rendere fruibile una delle zone più suggestive e frequentate della frazione di Santa Maria. Con il completamento in tempi brevi degli interventi già in atto da parte di e-distribuzione, ridaremo a lungomare i guglielmini quel lustro e quella funzionalità compromessa negli anni.